non niente da fare un film distratto e al tuo nuovo gatto lascia fa' la managgia è il quattro video che c'ha in mano? no vabbè roba 1.000 1.000 madonna è il primo metti il primo raga è il primo? madonna un milione così BAM 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 mamma mia ok entrati entrati devo andare oh devo andare a comprare sigarette con un po' di paura no vedi che c'è paura stanno a comprare i jospini stanno a fa' eh ma i jospi si dovrebbero comprare si dovrebbero comprare i jospi si appaura delle jospi vabbè metti stuvidi mannaggia lukaku mannaggia lukaku un sedente nucazzo oh c'è qualcosa che non fa oh 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 che figliata montavo io i video eh ci tengo a dirlo se non vedete che cazzo di chiedi in questo momento prova cover non so se siamo più fighi move si adesivo si beh siamo più fighi move? siamo riusciuti siamo più fighi move? via guarda che è dentro che pazza cazzo uuuuuh gian sta qua raga tranquilli no ci sto sto a fare la roba dei mani bella raga e come vado e che riva? e che riva? e che cazzo fatti? e che cazzo fatti? e che cazzo fatti? e che cazzo fatti? rispondiamo a tutte le domande che tutto ti ha sentito che ti ha sentito tantissimo le domande che mi leggiamo proprio glow up generale assurdo comunque le domande ci hanno riposto comunque questo video si chiama quei quattro rispondono e basta molto più fighi ora siamo cresciuti eh ma sono due anni giusto eh ma sono due anni di adolescenza ha detta giusta eh l'ho detta giusta ci arrivano due anni importanti sono due anni molto sai com'è ricavate di sbraio non c'è niente c'è ancora Valerio che schifo che schifo ma chi che è schifo? il braccio di il braccio di Diego c'era Valerio? no era proprio brutto il braccio ma c'era Valerio? piazza 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 ma c'era Valerio? c'era ancora Valerio qua? non è altra cosa hai fatto pure bene a lasciarlo c'era ancora Valerio? si l'ho appena detto assurdo io avevo dei capelli scandalosi nooo grazie nooo grazie grazie vediamo se abbiamo rispettati tutti continuiamo con i tre grazie 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 se la siamo chiamata è andata bene è andata bene non me la mento no però potremmo fare un tour non ho ancora mai fatto un tour no non ho mai fatto un tour c'è gente che l'ha fatto dieci volte e non l'ho mai fatto no no va bene sì no 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 erano belli però stai molto meglio adesso capito il visino giusto adesso è un po' più furo cazzo 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 yo bro your girlfriend is riding to you bro cazzo vieni ma raga porco due perché pensate noi non volessimo fa' pensate noi non volessimo fa' Artur ma di che stavo a parlare ma c'è ma c'è questa 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 quella da mettere in bicchiere ma c'è questa quella da mettere in bicchiere bella ragazza i mi q4 ehm ma la volem fare una puntata di q4 su gta ma si vaamola io sto a bloccare e non ci ho piaciuto ma c'è questo te faccio mettere l'account ma non c'è il wipe quindi due postazioni quattro figa non fatti a fatti dire no di trovare una sistemazione più a capotavola si allarga sto tavolo bella pippo a stupendo te ma che cosa non hai arrivato mai ma non ce l'aveva li avrei guardati non so quante volte davidino io sono dipendente ai gta si raga non posso reagire alla sfida di coppia perché stanno le canzoni che era successo a pippo grazie per la sub mi fratello che cazzo è successo e sbroccato non mi ricordo poi l'abbiamo abbattuta mi sa perché la sbroccata più grave era la rapa litigio greve regata la di forse litigi più greve hai fatto solo te dietro let's go andiamo insieme allele che conviene che coglione ce l'avevi ma cosa rega non posso menti continuare la canzone perché le canzoni sono copyright porca puttana avete pagato la luce si perché pure questa è una hit questo non c'ha musica questo non c'ha musica questo non c'ha musica questo non c'ha musica no aspetta voglio mettere sto video ma solo una parte ecco la bella la canzone rollo la canzone rollo lascia qua lascia qua vedi giusto già nera inesistente in sto video come in questa live la canzone lo spazziamo la benedetta la piaccia la benedetta la collega la collega la piaccia la pericolica la mancine in quest'ora dai aspetta 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 andara faccio metto lo slomo si può velocità 025 che ha lanciato sbatte e poi si rompe dopo tipo due secondi non lo capisco perché l'ho lancio subito dopo arriva sempre convinto questo pippo stupendo per forza sabbia tra le spese di cristo ragazzi sei un grande ragazzo mi sto sentito male col culo da due anni ragazzi è convintissimo perché è una stecca ripeti perché non c'è mano per mettere lo slomo vai 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 troppo strano metti più lento come non c'è ma te non c'è niente in mano ma te non c'è più lento guarda un cucchiaino lei è stato lanciato lanciato guarda io io l'ho lanciato subito ma si c'è il mondo mi hai detto boh no ma mi ricorda che lui cazzato doveva lanciare a partire il lele che spettacolo arriva adesso che era tutto il video in slomo no io incontro la mia mano mori la volta fa da non fare a casa a casa a casa a casa a casa a casa stesco che sta facendo? stesco chi è la canzone? Sì Guarda La mia faccia è brutta Posso Posso Non posso vedere Ma non è Immagina, non ci sono scattati Non ci sono scattati Non ci sono scattati E non ci sono strani sembra una lingua aliena allora faccio vedere l'ossigeno così no ho bloccato si così ma come così sei strano guarda che luci sta camera ragazzo troppo fissa smettiamo che sta con slow mo vabbè ritorniamo a parlare qualcosa non mettiamo i commenti esatto metti pure questi commenti quali? ah i commenti del video remix ci sarete? ma magari ma magari ci cascano quando è ottobre? ci sta lo fanno lol l'ultimo remix che abbiamo fatto bel panichello ma tra quanto gli chiudi la live? oh stavo a un'ora e mezza non lo so eh? tra poco tra poco dai ma se le tra poco allora rimango in live ma qua che è così cioè hanno detto se poi stacco sto da solo lo fai capito 0-9 guarda 0-9 fa anche l'elee sincronizzati fai vedere metti metti eh ma non c'era nulla clicca su 9.6 eh l'ho fatto l'elee forse questo è quello testo tanque di amore di zia togli quella roba dalla cam eh? oh sì oh arrivo aspetta volevo leggere un messaggio di saletta tanque di amore di zia togli quella roba dalla cam ah ah scusa eh questa è la mia faccia gigante da classe ok? lo scrovo e lo scrovo ah ma figo no 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 ah che I don't know I don't know maybe bro ma ma secondo te vabbè dimmi 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 stop doing what you're doing no 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 I'm doing this wipe up I'm doing this wipe up I'm doing this wipe up aspetta I wanna back and we'll wait for a minute lenta